Il brano assunse dimensioni tali da riempire due facciate di un 78 giri. Beh, vediamo se anche stasera succederà la stessa cosa. Signori e signori, la filarmonica Capezzano-Monte in sing, sing, sing. Alla batteria, il gene gruppe della filarmonica di Capezzano-Monte, Stefano Pasquini. Al clarinetto, il nostro bagno, Riccardo Ceragioli. Sing, sing, sing. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.